Emergenza coronavirus, come la stanno affrontando i commercianti? La stiamo affrontando in maniera un po' drammatica perché le città si sono svuotate, perché il sistema ha dato dei segnali un po' preoccupanti. Io dico che nel rispetto della sanità, per carità di Dio, e della salute della gente, però adoperando a certe regole e non creando panico, si può vivere tranquillamente. Io sono convinto che in questa situazione dobbiamo avere il coraggio di comunicare veramente qual è questa epidemia. Questa epidemia è un'epidemia, io ascolto i scienziati, ascolto solo loro perché sono loro che hanno le giuste informazioni. Si sta propagando in maniera importante, però adoperando le giuste regole viene circoscritta. Quindi da questo a svuotare il territorio, svuotare le città, svuotare tutta la provincia, a svuotare tutta la regione o creando delle situazioni di difficoltà tra Lombardia e Veneto, che sono il 30% del PIL nazionale, io mi guarderei bene. Allora noi abbiamo bisogno di approvvigionamenti, noi abbiamo bisogno di dialogo anche con l'Europa, perché il turismo arriva anche da tutto il mondo nella nostra regione. E quindi io ritengo che dobbiamo fare uno sforzo comune tutti di dire quella che è la verità. Si può venire in Italia, non c'è nessun problema a venire in Italia. Adesso, appena passato questo tipo di allarme, io penso che ritorneremo velocemente a una vita normale. Bisogna dirlo anche a quelli che telefonano per disdire sui nostri alberghi e dire qual è veramente lo stato di fatto.